Non c'è più il ponte, per un pelo la gente è salva, è lì il ponte. Prima o poi dovrà succedere questo fatto qua, è incredibile. Ci saranno dei feriti, dei morti, io non lo so ma è davvero grave. Ci sono le macchine là, se le vediamo. C'è una macchina lì, la potete vedere. È un disastro per Genova questo. Grazie. 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 Grazie.